16 giugno 1988, muore a soli 32 anni Andrea Pazienza, autore di fumetti e pittore. Pazienza, nato nel 1956, inizia a disegnare le prime strisce al liceo, dove conosce il disegnatore Tanino Liberatore. Nel 1977 è fra i fondatori della primo Carnera Editore e della rivista Cannibale. Nel 1980 fonda il mensile Frigidaire, per il quale Pazienza realizza soggetti e disegni per decine di storie. I suoi personaggi più noti sono Pentotal e il cinico e spietato Massimo Zanardi.